Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Jasmine Carrisi, bikini non regge il seno è tutto fuori, la figlia di Albano piccante sui social La bellissima Jasmine Carrisi è la più giovane delle figlie del bravissimo cantante Albano La bella influencer infatti è nata dalla relazione con Loredana Lecciso ben 21 anni fa La giovane ragazza è molto conosciuta sui social, il suo successo infatti arriva quando inizia ad essere ospite assidua del programma di Barbara D'Urso pomeriggio 5 insieme alla mamma Loredana Ovviamente il piccolo l'ha ricevuto quando insieme al suo papà ha partecipato come giudice a The Voice Senior La giovane Jasmine infatti all'interno del programma, soprattutto nelle primissime puntate era molto sulle sue Solo dopo poco tempo è riuscita a distendersi e ad essere più spontanea e meno tesa La giovane infatti non ha avuto molta esperienza in televisione per questo spesso appare un po' fredda Ma non si direbbe dai social. La bellissima Jasmine infatti proprio sulle piattaforme come Instagram e TikTok è molto seguita, infatti nei video che posta sembra tutt'altro che fredda e timida Jasmine il seno esce dal costume.La bellissima figlia di Albano Carrisi ha molto seguito soprattutto su social In particolare Jasmine infatti è molto seguita e banta migliaia di followers nonostante la sua giovanissima età La giovane influencer infatti pubblica spesso video dove canta e si diverte con gli amici Nell'ultimo post però pare che la giovanissima Jasmine abbia sorpreso tutti i suoi fans per un video pubblicato poche ore fa La giovane infatti ha pubblicato un video dove era rilassata in una bellissima vasca da bagno d'idromassaggio In molti però non hanno potuto non notare il suo costume stream in sito L'influencer infatti nel video ballava in modo sensuale sulle note di una famosa canzone, ma quello che è saltato subito agli occhi del pubblico è stata la parte superiore del costume Jasmine infatti nel video balla in modo molto provocante Ma non si accorge che il reggiseno è un tantino stretto Si nota infatti un piccolo strabordo del seno, che i fans non hanno potuto fare a meno di guardare Nonostante ciò pare che la bella Jasmine sia al suo agio, soprattutto se riceve migliaia di complimenti sotto ogni suo video Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video